Siamo con Stefan Zelgari in occasione dei campeonati italiani di Gromo. Oggi per te è quarto posto di un soffio dal dal podio però credo che a te interessassero soprattutto le sensazioni. Eh per poco ho mancato la medaglia medaglia di legno purtroppo un quarto posto speravo un po' meglio speravo di fare la medaglia però ho visto che sto abbastanza bene e quindi soprattutto sono contento perché ieri non è andata come volevo e quindi sono riuscito a migliorare il risultato di ieri. Senti ti vedo sempre molto determinato e tutto quindi volevo chiederti stai pensando a cosa non sta andando? No ultimamente mi sentivo un pochino stanco non ero tanto brillante soprattutto ieri oggi è un po' meglio però eh determinato sì eh ovviamente vuoi sempre star bene quando c'è sono le gare quindi per far bene bisogna soprattutto in Coppa del Mondo per far bene bisogna stare molto bene perché il livello è alto. È quello che è mancato in questo momento quindi per te la condizione fisica non hai mai raggiunto il top? Eh diciamo che stavo meglio a dicembre eh invece già a Overstaff mi sentivo un pochino stanco invece ieri ho partito abbastanza la gara la fatica e oggi è un po' meglio vediamo come vanno le prossime. Obiettivi per questa parte conclusiva della stagione? Obiettivi adesso dobbiamo vedere cosa cosa mi fa fare l'allenatore decidiamo insieme se fare il il tour della Scandinavia o forse saltare quello e fare qualche altra gara e andare poi in America però penserò a weekend a weekend e però soprattutto fare ancora delle belle gare in Coppa del Mondo diciamo. Lei vista quella pista mondiale sai anche adesso quanto è dura però immagina un po' il pensiero no? Uno stimolo in più a voler essere lì l'anno prossimo. Eh sì è molto molto dura purtroppo non ho raggiunto il mio obiettivo di arrivare nei trenta però ci lavorerò poi d'estate per 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 riuscire a far meglio poi l'anno prossimo ai mondiali.